Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è martedì 23 agosto 2022, questa è la rassegna stampa di Fano TV, leggeremo insieme, daremo una scorsa, anzi è meglio dire nei quotidiani di questa mattina, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico, vedremo quali sono le notizie più importanti che riguardano le nostre città e il nostro territorio. Intanto passiamo per l'Almanacco e vediamo qual è il Santo del Giorno. Il Santo del Giorno è Santa Rosa de Lima, si chiamava in realtà Isabel Flores de Oliva e nacque alla fine del 1500 a Lima in Perù. Ebbe molte apparizioni, molte apparizioni in modo particolare di Santa Caterina di Siena che ella aveva eletto come sua protettrice e di Gesù. Fu suora dominicana e appartene anche al terzo ordine regolare dei predicatori. Si distinse durante il corso della sua vita per le opere di carità e per il suo amore mistico, una santa da venerare. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo. Vediamo come i cieli si mantengono in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste comunque piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26 gradi, la minima di 22. Il mare si mantiene mosso, i venti spireranno da est-sud-este. Ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico questa mattina sulla pagina di Fano e vediamo che il giornale insiste sugli espropri della variante di Gimarra. Nei giorni scorsi, come avete visto anche nelle rassegne stampa di ieri, e nei giorni scorsi sono arrivate oltre 90 lettere ai proprietari delle piccole parcelle che saranno espropriate lungo l'itinerario del completamento degli interquartieri sulla collina di Gimarra. Vediamo subito il titolo. sugli espropri per l'interquartieri al momento non c'è nessun ricorso, tanto non si farà, medita qualcuno dentro di sé. I cittadini che hanno ricevuto le lettere restano al momento in stand-by. Benini Tranchant è un fallimento, dice ovviamente l'esponente politico che ha una proprietà in quel territorio. Quelle lettere ce le aspettavamo, hanno detto in sostanza i residenti sulla collina di Gimarra. Con le stesse si informano gli interessati della partecipazione dell'avvio di un procedimento. Non siamo ancora alla esecuzione dell'esproprio vero e proprio, ma i residenti vengono avvertiti che il Comune ha avviato un procedimento nei loro confronti. Comunque ci sono ancora delle molte resistenze intorno a questa vicenda. C'è anche qualche perplessità all'interno della maggioranza. Che cosa accade? Accade che ci sono situazioni veramente colpite, perché poi ci sono aree agricole che vengono tagliate a metà dall'itinerario dell'interquartieri. Vediamo come ci sono delle abitazioni con delle pertinenze che vengono divise. Insomma ci sono veramente dei problemi. Qualcuno viene risolto con dei sottopassi, altri invece con degli attraversamenti pedonali, sempre pericolosi per una strada a grande scorrimento come sarà l'interquartieri perché conduce il traffico dalla città alla periferia di Fano Nord verso la statale Adriatica. Comunque il problema viene poi evidenziato anche sul resto del Carlino. Lo vediamo qua in un articolo che pone alla ribalta Fabio Tombari, l'ex presidente della Fondazione Carifano. Tombari, la variante, farà strage di alberi. Anche lui in modo ambientalista evidenzia questo problema. Tombari è proprietario di circa un ettaro di terreno che verrà espropriato e contesta il progetto e la sua utilità. Ma torniamo al Corriere Adeatico. Vediamo anche un articolo che riguarda il paese dei Balocchi che è diventato maggiorenne. Si è conclusa domenica scorsa la diciottesima edizione. Una manifestazione questa che è cresciuta moltissimo. È nata per così coagulare il quartiere di Bellocchi nel 2004 quando c'era un compulsivo incremento abitativo perché poi c'erano le necessità della zona industriale lì vicina, sorgevano molti appartamenti e si correva il rischio di estragnare un po' gli abitanti l'uno dall'altro. Allora l'idea di alcuni lungimiranti fece sì che si coagulassero alcune associazioni come la parrocchia, le acli, bar, la scuola di calcio, insomma per costituire una iniziativa aggregante. E nappe così l'idea per la similitudine del nome dei Balocchi con Bellocchi di riproporre la favola di Pinocchio. Una favola che è cresciuta tantissimo perché oltre a divertire i bambini solleva temi di grande importanza. E qui abbiamo una dichiarazione di Michele Brocchini che evidenzia come il tutto è nato e il tutto è cresciuto. Bello lo spettacolo conclusivo domenica scorsa di fuochi artificiali con le fontane luminose danzanti. Insomma uno spettacolo degno di una manifestazione che ha radunato migliaia di persone nei quattro giorni del suo svolgimento. Ed ora parliamo del Museo Civico e della Biblioteca Federiciana. In un articolo firmato da Andrea Maduzzi oggi si fa il punto sul finanziamento di queste due opere e sull'accesso al PNRR che dovrebbe finanziare i lavori di ristrutturazione. Oltre 70 mila euro verranno dati alla Sinopia SRL di Deruta, società specializzata in materia di piani complessi. È un incarico questo per accedere appunto ai finanziamenti. Sul piatto ci sono in tutto più di 123 milioni ma ogni singolo progetto non potrà essere finanziato per più di 2 milioni e mezzo. Quello con cui Fano concorre alla distribuzione delle risorse del PNRR fa riferimento soprattutto a due importanti strutture della cultura. La Biblioteca Federiciana e il Museo Civico che si dovrebbero spartire 13 milioni per quanto riguarda la spesa. 9,7 per la Biblioteca e 3,5 per il Museo Civico. Sappiamo poi come la ristrutturazione, anzi l'ampliamento della Biblioteca Federiciana ha in progetto un grosso nome dell'architettura italiana rota da una parte e uccinotta dall'altra. In bici urtato da un'auto pedalava sulla ciclabile. Un ciclista fanese di 68 anni si è rimasto ferito in un incidente stradale che ha coinvolto anche un'automobile all'innesto di via Mameli su via Papiria, uno degli incroci abbastanza pericolosi perché è intensamente attraversato dal traffico. Per quanto riguarda la cronaca vediamo anche l'arresto di un 48enne che è stato trovato con l'eroina in tasca. Poi all'interno della sua abitazione sono state trovate altri grammi di eroina ed un bilancino di precisione oltre al materiale di confezionamento delle dosi, quindi spacciava la droga. E ancora sulla pagina della Val Metauro vediamo un articolo che coinvolge Fano e il suo territorio. È un'analisi di Maurizio Tommassini, uno dei sociologi più importanti della nostra città, è stato anche coordinatore dell'ambito. Ora presiede l'ACLI. Anziani non autosufficienti, disponibili appena 128 posti. È un problema quello delle case di riposo o RSA per quanto riguarda il territorio fanese. Fano ancora non ha alcuna struttura in questo senso, avrebbe dovuto averla e la situazione si sta facendo sempre più difficile. È stata difficile per gli anziani fanesi non autosufficienti che gravano ancora su tutte le famiglie. Quasi impossibile. Infatti trovare un posto in una struttura è ancora più ardua la ricerca di trovarla nei comuni limitrofi, dove le eventuali liste di attesa privilegiano ovviamente i residenti di quei comuni, non certo un fanese che deve spostarsi magari a Mondavio. Accende la spia rossa all'allarme il sociologo fanese Maurizio Tommassini, componente anche come abbiamo detto della direzione nazionale dell'ACLI. Siamo anche noi una città da un tasso di invecchiamento molto alto, ha evidenziato Tommassini. Un rapido riassunto dell'attuale situazione mette in evidenza come da oltre 30 anni viene richiesta una RSA, una residenza sanitaria assistita per una città che ha 60.000 abitanti e una popolazione over 85 di quasi 2.700 persone. La città invecchia però non ha ancora le strutture necessarie per servire questo settore della popolazione. È un problema da risolvere e fa bene Tommassini a metterlo in evidenza. Invece per quanto riguarda terre roveresche il sindaco stesso Antonio Sebastianelli che suggerisce di utilizzare piccoli laghi di riserva in caso di siccità. Sebastianelli un'emergenza quella della siccità che richiede di non avere pregiudizi. Per far fronte al grave problema occorre realizzare piccoli laghi di riserva. Bisogna anche controllare le condotte ha detto il sindaco perché queste perdano il 35% dell'acqua e non è un dato rilevante pulire gli invasi colmi per il 75% di fango. Ebbene la spessore del fango è in tasa, queste riserve d'acqua e quindi di acqua ce n'è sempre meno. Passiamo ora alla pagina regionale dove si parla diffusamente di elezioni. Ebbene ieri è scaduto il termine per presentare i nominativi dei candidati alle prossime elezioni del 25 settembre. Vediamo subito i titoli. tre assessori tra i candidati. Che succede ora in regione? Ebbene il problema di Acquaroli è quello di sostituire questi tre assessori la cui elezione dice il giornale sembra quasi certa. E chi sono questi assessori? Sono la Latini, l'assessore Carloni e Castelli sicuri di entrare in Parlamento. Acquaroli pensa ai sostituti e comunque interrompere una tornata amministrativa, una legislatura a poco più della metà del mandato. Insomma non è certo agevole per la continuità legislativa e amministrativa del territorio. Comunque c'è chi è sicuro di fare meglio in Parlamento e uno di questi è l'assessore Carloni. Lo vediamo qui in una intervista. Vado a Roma è il luogo delle scelte, ha dichiarato Saraò l'ambasciatore delle Marche. L'assessore leghista Carloni corre per la Camera nell'uni nominale di Pesaro. Roma è il luogo delle scelte, quindi è là dove si conta. E poi Carloni è ottimista, dice che a Roma il governo sarà simpatetico con quello delle Marche, quindi una maggiore collaborazione tra i due enti porterà vantaggi a tutto il territorio. Giriamo pagina e vediamo come il Corriere Adriatico ha realizzato due pagine molto utili per tutti gli elettori, per vedere chi sono i candidati, dove si presentano e in quali collegi sia per quanto riguarda la Camera che per il Senato. Qui vediamo in questo specchietto che sono divisi i collegi, i quattro collegi della Camera. Noi ci fermiamo un attimo sul collegio di Pesaro, il numero 4, e vediamo chi sono i candidati. Mirko Carloni, di Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia, è il candidato appunto di questa coalizione. Invece per quanto riguarda Giordano Masini, è candidato del Partito Democratico di Europa, articolo 1, Verdi, Sinistra Italiana, Partito Socialista e impegno civico. Poi abbiamo Rossella Cotto che ci riprova come Movimento 5 Stelle, Federico Talè, Azione e Italia Viva, Renzi e Calenda, Stefano Puzzer, quello che è stato il portabandiera dei Novax, Italexi, Renzo Savelli, Unione Popolare con De Magistris e poi Cveic, Dalibor, Italia Sovrana e Popolare, Lorena Narcisi, Alternativa per l'Italia e Chiara Pizzorno, Partito Comunista Italiano. Qui alcuni nomi si conoscono, sono noti perché sono spesso saliti alla ribalta, se è più difficile trovare nomi noti per quanto riguarda invece il Senato. Per quanto riguarda il collegio Pesaro-Ancona, vediamo che Antonio De Poli si presenta per Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia. Marco Bentivoglio, lo vediamo qui in questa fotografia. A nome del PD d'Europa, articolo 1, Verdi, Sinistra Italiana, Partito Socialista e Impegno Civico. Samuela Melini, Movimento 5 Stelle, Elena Fabri, Azione e Italia Viva, Emanuela Merli, Italexit, Marco Bini, Unione Popolare con De Magistris, Paola Raponi, Italia Sovrana e Popolare, Gabriele Cinti, Alternative per l'Italia e Stefania Settimi del Partito Comunista Italiano. Ma ancora non è finita perché il Corriere Adriatico questa mattina evidenzia tutti i simboli che si troveranno nelle schede delle votazioni e alla vista degli elettori. Vediamo qui i simboli, sono 15 che fanno parte del collegio proporzionale del Senato per le Marche e il collegio proporzionale della Camera e qui vediamo tutti i simboli. Alcuni sono noti, altri meno, però bisognerà poi vedere nella scheda, trovare il simbolo che si vuole votare. La carica delle venti liste dei collegi proporzionali verranno letti nove parlamentari, sei deputati e tre senatori. È molto ridotto il numero dei senatori e dei deputati rispetto alle passate elezioni. Lo evidenzia anche questo articolo del Corriere dal taglio dei parlamentari ai diciottenni che votano al Senato. Sono queste le novità delle prossime elezioni. Ecco le novità del Rosatellum. Il Rosatellum è il nome della legge che ha preso il nome dal suo propositore, cioè da Ettere Rosato. Rosatellum, prima faceva parte del PD, ora di Italia viva. Prevede un sistema elettorale misto, in parte proporzionale e in parte maggioritario, che ora viene contestato perché la riforma elettorale dovrebbe essere uno dei primi punti del prossimo Parlamento. Ed ora passiamo alle notizie di Pesaro. Si parla di turismo. La stagione è da allungare. Il Comune prova il test della mezzanotte dei bimbi. L'evento per famiglie è stato spostato al primo weekend di settembre, non più in agosto, dove si considera che imperi l'alta stagione, ma a settembre, dove le prenotazioni, dove le presenze dei turisti calano e quindi questa iniziativa dovrebbe attirare maggiormente le presenze. Per la Capitale della Cultura i mesi futuri saranno un banco di prova. Scaramucci e Tour Operator preparano la promozione e il marketing. La Capitale della Cultura è un evento non solo culturale, ma è anche un evento economico, perché con le presenze, con l'arrivo di tanti turisti che parteciperanno agli eventi, ne guadagneranno il commercio e anche il sistema ricettivo. Prepariamoci ai blackout di stagione e questo è l'altro faccia della medaglia. Qua una medaglia positiva per l'incremento del turismo, qua invece i problemi per l'aumento del caro vita, è il metano, il gas, è quello che è un po' la spina che ferisce tutta l'economia del territorio. Prepariamoci ai blackout di stagione e hotel chiusi perché riscaldare costa. Sia l'APA che la CNA condividono e rilanciano le preoccupazioni di confindustria sul caro energia. Abbiamo visto ieri come la Baronciani aveva posto in evidenza questo problema e oggi lo rifanno anche queste due associazioni. Qua un fatto di cronaca, una signora adescata su Instagram e truffata, la love story virtuale le costa 40 mila euro. Ebbene si è cominciato chattando tra due sconosciuti, poi la conoscenza si è un po' affermata, dalla conoscenza si è arrivata alla confidenza, è nato un sentimento, è nato qualcosa, ma lui ha chiesto lei un aiuto perché a un certo punto ha detto di trovarsi in difficoltà. Lei di buon animo lo ha aiutato e gli ha dato dei soldi ed è qui la truffa. Lui non era affatto in difficoltà, voleva soltanto spillarle dei soldi e così è avvenuto. Ebbene è uno degli esempi che è sul tavolo del legale Nocito, la quale dice ci sono più denunce, altro che amore, sono trappole per spillare soldi. Quindi fate attenzione quando parlate con delle conoscenze improvvisate su internet, sui social, non si sa mai che cosa può capitare. Restyling del percorso Santa Croce con le risorse di bilancio comunale. Si tratta di un intervento che viene evidenziato dal capogruppo Democrat Mattioli che rassicura sugli interventi non solo la riqualificazione del sentiero Santa Croce ma va creato un percorso archeologico per collegare la periferia di Pesaro a Novilara. Sappiamo come Novilara sia importante per l'archeologia con la sua necropoli. Il sentiero denominato, non si parla dell'ospedale Santa Croce, si parla del sentiero di Santa Croce, uno sentiero che scende dalla necropoli di Novilara fino alla strada dei condotti. Qui si parla di tabelle praticamente illegibili e quindi devono essere riformate. Un'ultima notizia di cronaca sul Corriere Adriatico. Un pusher ci ricasca, arrestato per spaccio alla fine del percorso di riabilitazione. Sembrava che gliel'avesse fatta ad uscire dal tunnel della groda. No, niente di tutto questo. Purtroppo ci è ricascato. Si tratta di un 45enne di Osimo che è stato fermato dalla polizia in Viale Napoli a Pesaro domenica scorsa alle 4 del mattino. Ed ora passiamo al resto del Carlino. Il resto del Carlino che apre con una intervista al sindaco Massimo Seri. Anche noi capoluogo con Pesaro Urbino. Il sindaco Seri lamenta da tempo il fatto che la terza città delle Marche sia bistrattata perché non ha la patente di capoluogo. In realtà è una città importante, superiore probabilmente a Macerata, a Ascoli, Piceno, che hanno invece la patente di capoluogo. E anche Urbino supera Fano perché è collegata con Pesaro. E questo penalizza la città di Fano per quanto riguarda il trasferimento di contributi dello Stato. Il trasferimento che privilegia proprio le città capoluogo di provincia. Siamo penalizzati. E poi il sindaco parla soprattutto di quello che sta accadendo per la caserma dei Vigili del Fuoco. Una caserma che è rimasta al palo, addirittura ad arrivo, proprio al momento in cui si stavano affidando i lavori per l'aumento del caravita. La ditta non se l'è sentita più di andare avanti perché i costi delle materie prime avrebbero superato l'utile che si sarebbe ricavato da questa impresa. Sono stati persi tanti milioni, pochi uomini anche nel commissariato di pubblica sicurezza. Per il fatto che Fano non è capoluogo, afferma il sindaco. Così non va bene. Caserma, una sede indecente. Sono vent'anni che lo denunciamo. È la presa di posizione dei sindacati che tutelano l'interesse dei Vigili del Fuoco. L'ex candidato sindaco auspici dice una situazione insostenibile. E poi qua abbiamo invece una presa di posizione di Lucia Tarsi, di Fratelli d'Italia, che interviene sulle prove di coalizione tra i grillini e il centro-sinistra. Fanno prove di coalizione su ogni cosa, afferma l'esponente dell'opposizione. Qua abbiamo visto l'articolo di Tombari per quanto riguarda la variante di Gimarra. Tombari la variante farà strage di alberi. E poi invece qui siamo a Colli al Metauro. Colli al Metauro che rievoca la presenza di Winston Churchill sul balcone della Valle del Metauro che guardava l'esercito tedesco in fuga e ritirata verso la linea gotica. Churchill sta per tornare. Era ieri. Conto alla rovescia. Montemaggiore è pronta ad ospitare la tradizionale rievocazione storica. Vedete qui in questa fotografia un po' come viene rievocata la presenza di Churchill con il suo sigaro nel paese delle Marche in questa altura in cui si dominava la valle e si guardava verso Pesaro dove appunto si dirigeva l'esercito in fuga. Era uno degli ultimi scontri per quanto riguarda lo sfondamento di questa linea difensiva che i nazifascisti avevano costruito da Pesaro su verso la Toscana. E' iniziato il conto alla rovescia a Montemaggiore al Metauro per la rievocazione storica. Era ieri che sabato e domenica prossima consentirà di rivivere uno degli episodi più importanti della Seconda Guerra Mondiale grazie al lavoro della Proloco guidata dal Presidente Katia Curzi. Il tema di quest'anno è trasformazione. Abbiamo messo in evidenza i cambiamenti prima e dopo il conflitto, la Seconda Guerra Mondiale. A Urbino si parla di Erdis, record di pasti con dedica al Duca, l'ente regionale per il diritto allo studio di Urbino, quello che assiste le necessità degli studenti. Eroga il 38% dei piatti che vengono serviti in regione. Alcuni sono ispirati a Federico da Montefeltro. Maura Magrini, presidente dell'Erdis di Urbino, ha studiato i piatti rinascimentali e anche gli studenti potranno assaporare i gusti del Medioevo, del Rinascimento, anzi diciamo meglio. A Cagli, eroina nel centro storico, arrestato al bar, si tratta di un 48enne sorpreso dai carabinieri di Cagli con un grammo di droga addosso, l'altra poi recuperata dopo la perquisizione della sua casa. Ma di questo abbiamo già visto. E siamo in conclusione. Voglio chialarvi soltanto alcune notizie di sport. Per quanto riguarda la visse e tempo di mercato, il mercato è aperto per rinforzare l'organico. E per quanto riguarda il Fano Calcio, il Fano ha dato la risposta attesa con la vittoria sul Senigallia. Reagire agli imprevisti in corso è l'input che viene dato al Granata. E questo è tutto per il momento. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani. E come sempre vi invito a seguire il Tg Occhio alla Notizia, questa sera con le notizie del giorno alle ore 20 e 30. Io vi ringrazio per l'ascolto. A risentirci.